Abbiamo piantato le fragole, come prima cosa, che però... Beh, però comunque, metta chiaro che poi c'è peggio, non è che... C'è poi la sotterra del tutto, non c'è caso. No, non c'è. Poi qua abbiamo piantato della rucola, che sta ancora crescendo, ma sembra venire bene. Il basilico, che è ancora piccolo, ma sta crescendo, sono le cipolle e le piante di pomodoro. Due sono uguali e una diversa. Perché avete piantato le cipolle? Abbiamo piantato le cipolle perché... usavano un tipo di pianta che deve stare insieme a un altro tipo di pianta perché sennò muoiono a vicenda, diciamo, e gli occhi. Cosa fa la cipolla in particolare? La cipolla è dello zolfo. Dell'odore. Lo zolfo, cosa fa lo zolfo? Da fastidio agli insetti che vengono. Bene, ok. Come vi è sembrata questa esperienza? È molto bella e da rifare. Cosa avete imparato? Dove sei? Non è stato un muoio. E che ci vuole per fare un orto? Si fa pazienza e... E basta? Si fa una stazione? No, 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 no.